ciao a tutte ho fatto un piccolo ordine dall'olocrea ogni anno inizio anno mi ero ripromessa di non acquistare più nulla però ogni anno mi faccio un piccolo regalo quindi quest'anno guardando diversi video che loro fanno di presentazione di filati ho deciso di acquistare qualcosa ovviamente poi mi lascio sempre prendere la mano e quindi non prendo un gomitolo due gomitoli ma prendo sempre qualcosa in base a un progetto che voglio realizzare dico subito inizialmente lo scriverò anche nel box informazioni che non è assolutamente un video di collaborazione non tutto quello che voi vedete io l'ho acquistato quindi ho anche la fattura poi per motivi di riservatezza privacy io non la farò vedere però non è un video collaborazione quindi è solo una condivisione di un acquisto che io ho fatto come tanti altri video che vi ho proposto nel corso degli anni allora iniziamo subito con un filato che io ho visto e rivisto tantissime volte nei loro video cioè un solo video l'ho guardato tantissime volte perché mi piaceva molto l'idea di avere questi colori anche se forse non sono prettamente invernali ma di avere dei bei colori da poter lavorare visto che comunque lavorare sempre colori scuri e anche i filati molto sottili non è che giovi tanto alla vista e quindi ho guardato diverse volte il loro video presentazione di questo filato qui appunto l'onda dopo aver visto in video i colori il filato e anche i vari campioni che fanno vedere e quindi anche la resa ho scelto i miei colori per cui trovo che l'idea di far vedere da parte loro e parlando veramente da esperte quindi da chi vende il prodotto finale al consumatore di parlare del prodotto che viene poi venduto al a chi li guarda è per me determinante nella nella decisione della scelta e nell'acquisto di alcuni filati quindi almeno per me è stato così per cui avevo la necessità di fare un maglioncino di più colori su queste tonalità e ho acquistato questi qua questi tre colori di onda l'onda è uno stoppino è un una lana mirino al 75 per cento e poi a della viscosa e del poliammide ogni cake a 200 metri in 100 grammi ed io ne ho prese quattro quindi sono 800 metri di filato qui è stato c'è stato un errore da parte mia perché non ho considerato che 800 metri comunque non sono non sono sufficienti per cui settimana prossima rifarò un altro ordine capirò bene lo sviluppo del modello che voglio realizzare e ne prenderò magari qualcuno in più nel frattempo una persona ha visto questo colore io adesso non mi sono insegnata i colori ha visto questo colore e mi ha richiesto un lavoro quindi farò un ordine andrò a integrare l'onda e andrò a prendere appunto questo questa colorazione per per poi poter realizzare quello che mi è stato richiesto io ho fatto già il campione quindi adesso vi faccio vedere solo in video i colori che ho preso mi spiace aspettate io qui ho la fattura adesso vediamo se riesco a darvi indicazioni precise sul colore sì allora onda onda perché ho preso diverse cosine quindi questo è lo smog che è un bianco con delle scrizziature grigie ed è molto bello quindi questo è il mi sono persa questo è lo smog poi c'è il lavanda che questo violetto molto tenue bello e poi c'è il cipolla e questo di questo me ne sono innamorata quindi ne ho presi due lavanda uno smog e uno cipolla assieme a questi io ho ricevuto un omaggio in quello che ho comprato quindi una cake in omaggio e sicuramente sarà stato un omaggio studiato nel senso che avranno abbinato qualcosa a questo genere di filato ed ho ricevuto questa cake bellissima che ha quasi lo stesso color cipolla vedete però sono lavorabilissime tutte assieme non so se riesce a vedere tutto si riescono a vedere tutti i colori vediamo se li metto così ne tolgo una perché tanto questo è doppio ecco qua questo sarà il filato del mio prossimo progetto e vi dicevo questo è il regalo che io ho avuto questo è l'omaggio che ho avuto il morbido ed è mohair lana e fibra acrilica si lavora sempre con i ferri 7 8 perché il campione l'ho fatto con i numeri del numero 7 e quindi secondo me è adattabilissima ad essere inclusa nel mio progetto con questi colori quindi con il filato onda adesso vi faccio vedere il campioncino che ho realizzato il campioncino è questo ovviamente io ho provato sia a mescolare anche il morbido e a lavorare non solo a maglia rasata ma anche a legaccio e devo dire che mi piacciono entrambe le lavorazioni è quel filato che risulta molto morbido che si lavora velocemente perché comunque io l'ho fatto il campione con un ferro del con delle punte numero 7 e dopo il lavaggio risulta morbido a me è piaciuto tantissimo mi è piaciuto sia il colore ma anche la consistenza proprio del filato in sé perché lo stoppiamo lavorare questo genere di filati quando vedete quei cappelli che sono quel colli che sono lavorati con quei ferri molto grandi che risultano morbidi con un drappeggio bello nonostante la grandezza del filato ecco questo è uno di quei filati che dà quel tipo di risultato quindi da questo ora non vi anticipo nessun progetto perché come già ho detto io purtroppo non riesco a prevedere e a programmare tanto sul sul canale quindi progetti e lavori da farvi fare o da proporvi o che voi mi potete proporre perché questo non è il mio lavoro principale per cui io faccio tutto veramente con estremo con estrema tranquillità e per me un diletto quindi non posso avere un agenda e un calendario con delle scadenze quindi quello che io farò poi lo vedrete man mano nel tempo questa è solo una condivisione per come ho detto all'inizio quindi questo è il primo il primo filato che ho scelto poi sempre ispirata dai loro video da quelli che che fanno anzi io vi invito a iscrivervi al loro canale e andare a vedere i video di presentazione che fanno dei filati perché è veramente utilissimo cioè non è come la classica recensione che facciamo noi che andiamo ad acquistare facciamo una recensione loro vanno molto nel dettaglio con in pochissimo tempo e danno tanti suggerimenti anche sui modelli e su sull'utilizzo dei filati appunto su quello su dove sono più indicati dove è più indicato utilizzarli poi ho preso i remi il remi che è 70 alpaca e 30 poliammide come vedete la percentuale di fibra animale è altissima e anche questa è una cosa che a me aiuta molto per la mia allergia per quello di cui ho parlato anche tempo fa non riesco più a lavorare filati sintetici perché purtroppo mi danno molto fastidio e da un po' di tempo ho capito che sono anche le punte in metallo quindi anche l'uncinetto anche le punte ecco le punte in bambù o il legno se è il legno rivestito mi da fastidio se è bambù no quindi diciamo che mi sono un po' sensibilizzata a questo tipo di materiali quindi i filati con la percentuale più alta di fibra animale a me risulta più facile insomma non ho troppi problemi a lavorarli torniamo a noi quindi questo è il remi anche questo l'ho preso per un progetto abbastanza importante quindi sempre un golf un maglioncino qualcosa di grande infatti ne ho preso tre cake le cake sono da 330 metri quindi questi sono 3 6 9 sono 1200 metri quasi abbondanti adesso non ho fatto il conto e si lavorano con un ferro 4 4 e mezzo quindi diciamo che il tessuto viene anche non viene proprio sottilissimo leggerissimo e si può sicuramente con tre cake viene fuori un bel progettino certo non una taglia xl di un golf però io non l'ho ancora provato ho solo fatto il campione quindi poi vedremo che cosa ne uscirà i colori del remi sono questo è il color crema e questo è il color iceland bellissimo che è un sembra che all'interno abbia delle screziature molto bello molto mi è piaciuto molto anche lavorarlo e vi faccio vedere adesso il campione perché io questi tre colori poi li andrò ad utilizzare assieme il campione lavorato con il ferro numero 4 è questo qui e quindi ho fatto una lavorazione a maglia rasata mescolando i due colori e lavorando anche a maglia legaccio entrambi i colori mi piace molto ha un bel drappeggio il filato dopo il lavoro bello si è aperto è molto leggero non pizzica e un'altra cosa che volevo dirvi le indicazioni che voi trovate sul sito della tensione del gauge quindi del loro campione 10x10 tante maglie e tante righe corrisponde esattamente a quanto fate voi può discostare di una maglia due maglie o di un ferro due ferri ovvero la nostra tensione può cambiare a seconda del modo che abbiamo di lavorare ma se noi seguiamo le indicazioni che loro danno sul numero di ferri e utilizzando il filato specifico avremo comunque il campione il gauge lo stesso di quello che loro indicano quindi c'è veramente una si discosta pochissimo per esempio per me per questo qui si è discostato solo di un ferro e una maglia quindi loro indicano se non sbaglio 13x17 a me è venuto un numero di giri in questo caso di righe di lavorazione una riga in più rispetto alla loro però non è determinante alla fine di un progetto questo perché ve lo dico perché se voi andate nel sito e guardate il gauge e magari avete un modello che ha lo stesso gauge di quel filato che voi avete scelto potete stare tranquille nell'acquistare il filato quindi il quantitativo di filato che viene consigliato dalla designer o dal designer nel modello appunto nel pattern con il filato che poi voi ovviamente con le cake che andrete a scegliere certo è che se la designer vi dice che ci sono delle matassine o dei gomitolini da 150 metri voi dovrete poi andare a fare il calcolo con i metri che presenta ogni cake perché sono cake importanti ecco questo è 330 metri ad esempio cosa che un gomitolo difficilmente ha 330 metri almeno che non sia proprio un fingering qualcosa di molto sottile quindi il gauge che loro indicano è molto molto attendibile si avvicina tantissimo a quello che poi si ottiene togliendo la variabile della nostra mano quindi della lavorazione del tipo di lavorazione che facciamo mantenendo sempre le indicazioni che loro danno un po' di ferri e uncinetto quindi questo è il remi come vi ho detto alpaca poliammide c'è sempre una grossa percentuale di fibra animale e anche questo sarà destinato a qualcosa di abbastanza importante un altro filato che mi è piaciuto moltissimo è il colost e anche di queste ne ho prese 3 cake eccole qui la stessa identica lo stesso identico filato quando anche qui nella presentazione che loro fanno di questo tipo di filato se voi andate a vedere nel video fanno vedere non c'è solo il coloravio questo che ho preso io ci sono diverse colorazioni e fanno anche vedere la lunghezza della sfumatura e i colori come si sviluppano quindi anche questa è una cosa utilissima perché sì viste in foto sono utili ma viste in video per come loro ce le presentano vi assicuro che aiutano tantissimo ogni cake ha 375 metri quindi anche questo l'ho preso per un progetto abbastanza importante e anche questo ha una percentuale di fibra animale molto alta che è del 64% ha anche il 26% di poliammide e il 10% di viscosa dal mio campione dal tessuto che ne è venuto fuori io ho avuto un'idea di provare a fare dei calzini perché comunque c'è questa parte tra il poliammide e la viscosa che mi dà la possibilità di mantenere una certa elasticità nella lavorazione dei calzini e di non avere il rischio che poi questi si rompano in fretta sicuramente non sono calzini di una fibra completamente sintetica quindi l'usura ci sarà sempre il campione che io ho fatto è questo ho cercato di non fare proprio un campione risicato piccolissimo però le sfumature sono molto lunghe quindi avrei dovuto fare un campione almeno 3 volte questo per andare a scoprire tutti i colori della cake poco importa perché io l'ho visto nel loro video sul loro canale quindi la sfumatura mi è piaciuta mi piace molto il tessuto che ne è venuto fuori io l'ho lavorato con un ferro 1,2,3,4 io lavoro sempre delle maglie a rovescio nella maglia rasata proprio per avere poi l'indicazione del ferro che ho utilizzato quindi ho utilizzato il numero 4 i ferri numero 4 a me piace mi piace per una maglia da uomo ovviamente è un filato molto sottile quindi impegnativo per fare un golfino è un lavoro lungo non è un lavoro veloce come se si lavorasse uno stoppino però vi assicuro che il tessuto che ne esce fuori è bello è di qualità si sente si sente al tatto le mie mani non ne risentono io adesso come termometro fra virgolette ho sempre la mia sensibilità al tatto un po' come chi prende una cake e se la avvicina sotto al collo per sentire se può pizzicare oppure no il grado di ispidità del filato diciamo così io invece vi dico che quando le tocco per me se è un filato particolarmente polveroso quindi che magari non è sufficientemente pulito perché purtroppo a volte mi è successo anche questo se è un filato eccessivamente composto da fibra acrilica le mie mani si arrossano nel giro di un attimo quindi io vi dico che questo quello che c'è scritto per me quello è quindi 64 di lana 26 di poliamide e 10% di viscosa di questo color poi ne ho presi altre due cake perché vorrei fare uno shall estivo mi anticipo perché conoscendo i miei tempi so che non riuscirei a fare qualcosa in tempi grevi quindi sempre del color ho preso questa tonalità che è chiamata primavera le sfumature sono bellissime a me piace tantissimo ci sono delle inclusioni di giallo c'è un verdino tiffani c'è un leggero salmone e questa è la cake spero che si vedano i colori io adesso non vi so dire se in camera è fedele o no non ho fatto il campione perché il campione mi sarebbe servito solo per scoprire poi alla fine il colore com'era ma la trama che è la stessa di quello che vi ho fatto vedere prima quindi abbiamo lo stesso filato con la stessa composizione solo con delle tonalità diverse questo mi piace molto poi è un filato chiaro e non ci dà problemi nemmeno con la vista qualora lo volessimo lavorare anche di sera in momenti di relax davanti alla tv io anche questo considero perché non è sempre semplice lavorare dei filati scuri un'ultima cosa un ultimo regalo che mi sono voluta fare è questa Shetland so che è un filato che non sarà continuativo così ho capito anche da come l'hanno presentata nei loro video ed io ho preso tre colori che sono dei colori molto naturali quindi vediamo adesso lo vedo qui sulla fattura perché non mi ricordo quindi c'è un color corda che è questo questo più chiaro ed è veramente un beggiolino molto bello poi c'è un color cielo io spero di non sbagliare nella classificazione dei colori questo è cielo e questo è grigio quindi per me sono questi tre colori che andranno poi abbinati tutti e tre assieme spero che si vedano questa è un 100% lana Shetland è molto sottile i ferri che loro consigliano sono il 3,5 io ho utilizzato per fare il campione un 3,75 ogni cake ha 250 metri quindi viene veramente una cosa molto molto leggera poi ovviamente con la lana Shetland io vorrei fare un pizzo Shetland quindi uno Shalet con il pizzo Shetland perché è quello che credo che emergerebbe e che farebbe risaltare ancora di più questo tipo di filato il campioncino che ho fatto per questa utilizzando due colori non tutti e tre il campioncino è questo qui questo è il campione ovviamente i miei campioni prima di farveli vedere sono lavati e stirati vedete qui c'è sempre l'esistart come in tutte le altre in tutte le cake ci sono due esistart perché i colori sono due colori diversi io ho fatto il campione sul aspettate che sposto questi altrimenti ci falsano anche i colori in camera almeno questi più scuri allora io ho utilizzato il il cielo se non sbaglio questo è mi spiace non averlo scritto sull'etichetta comunque ho utilizzato il cielo ed il color corta la mia idea è quella di fare un scialle a mezzaluna quindi così per come lo state vedendo con dei pizzi all'interno io vi dico solo che guardate quanto è piccolino il campione qui ci sono tanta maglie quindi lo scelta anche questo tipo di filato secondo me è molto molto impegnativo perché è veramente molto molto sottile quindi prima di cioè ovviamente ognuno fa quello che vuole io ho considerato proprio prima il progetto e poi ho acquistato il filato perché non vorrei mai che poi magari non non trovassi nel colore e né e nel filato stesso e magari andrei ad avviare un progetto così prezioso perché comunque il pizzo Shetland con la lana Shetland è veramente qualcosa di prezioso per poi lasciarlo a metà una volta lavata le fibre si sono aperte tantissimo sono il filato sembra molto ispido al tatto appena preso dopo il lavaggio si gonfia ed è veramente molto molto bello a me è piaciuto molto anche questo ovviamente io ho optato sempre per dei colori molto tenui e molto leggeri perché non sono mai per quei colori forti e accesi quindi anche questo sarà un progetto molto 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 lungo e vediamo quando riuscirò a farlo per completare siccome ho della lana ho della pura lana bianca e cru non bianca e cru che ho fatto vedere alcuni video fa la vorrei utilizzare perché il mio intento è quello di smaltire quanto più possibile filato nel mio insomma qui nei miei scaffali perché non vorrei poi trovarmi con quantità esageratissime da non poter utilizzare per cui ho pensato di utilizzare di smaltire questo filato di pura lana siccome è un panna statico proprio il colore naturale del vello dell'animale ho considerato di prendere questi coriandoli i coriandoli sono dei pacchettini da sei pezzi io adesso qui c'è la plastica ora li toglierò dalla plastica sono dei pacchettini da sei pezzi ogni pezzo ogni mini cake contiene 20 grammi ed ogni è tutto il pacchettino a 1200 metri in totale quindi sono 200 metri ogni per ogni piccola cake e la cosa bella è che loro hanno fatto questi coriandoli e sono tutti i colori tutti abbinati fra loro quindi può essere anche un gradient esempio prima questo prima questo poi questo poi questo poi il rosa no il rosa più scuro oddio non so se si vede quello più scuro e poi quest'arancio oppure viceversa partendo da da questo rosa e mettendo il chiaro prima comunque sono tutti i colori ben abbinati fra loro e lavorati assieme perché ovviamente questo è un mohair quindi no è un kid mohair all'80% e un 20% di viscosa lavorati assieme ad un filato che si lavora ad esempio col 3 gli daranno quella sfumatura giusta quella consistenza giusta e quella un po' di allegria e di animo a un filato molto bello pregiato ma senza colore ecco un panna così e quindi la scelta è andata su questo su questa tonalità di colori ce ne sono altri voi basta che andate sul sito e vedete gli altri colori che propongono le altre mini cake e queste appunto si chiamano coriandoli poi ovviamente ogni pacchettino ha 6 di queste mini cake se uno ritiene che non è sufficiente per un progetto un maglione o quello che sia ne può prendere anche 2 o 3 e abbinarlo con un altro filato e io la trovo una cosa interessante poter andare ad acquistare delle mini mini cake così di mohair per andare poi a recuperare del filato che magari non si utilizza e quindi con questo questo credo che sia il filato che mi è piaciuto di più mi sono piaciuti tutti ma questo devo dire forse perché non ho mai lavorato il 100% shakran mi è piaciuto tantissimo quindi con questo primo acquisto del 2023 io adesso vi saluto mi metto al lavoro sto già facendo qualcosina sto finendo qualcosa di iniziato dell'anno passato sono molto lenta perché purtroppo il mio tempo si è notevolmente ridotto ma non importa appena riuscirò a produrre e a sviluppare tutte le idee tutte le cose che ho in testa man mano ve ne farò partecipi e vi farò vedere vediamo se farne un tutorial o farvi vedere solo il progetto finito perché vi ripeto io non ho tempo purtroppo non ho più tempo e e pazienza forse per fortuna perché il lavoro è tanto però mi è sempre piaciuto condividere qualcosa con voi per cui fin quando riuscirò a farlo anche una volta a settimana due volte una volta ogni due settimane vediamo cercherò di tenervi compagnia vi ringrazio tutte ringrazio l'olocrea e le ringrazio per l'omaggio e vi dico l'ho detto all'inizio del video l'ho detto e lo dico lo ripeto anche adesso questo video non è una collaborazione non è una sponsorizzazione tutto il materiale che io vi ho fatto vedere l'ho acquistato e per chi vuole può andare a dare un'occhiata e vedere magari condividere e farci vedere anche gli acquisti se ho ispirato qualcuno vi saluto e alla prossima ciao 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 ciao